cerchi un'auto così avanti da anticipare ogni imprevisto ora quell'auto sta cercando te con il radar anti collisione nuova classe a ti segnala gli ostacoli in anticipo e inchioda appena tocchi il freno da 23.320 euro con collision prevention assist di serie scopri il presente che cambia il futuro anche sabato 18 maggio grazie